Ciao a tutti, la Tecnos Tecnos è un esempio di video girato a 720p in tracking zoom da LG G2 Vedete adesso metto a fuoco qui sul cartello Quindi ho loccato lo zoom sul cartello Se adesso io mi sposto, vede che lo zoom rimane sempre fermo sul cartello che ho loccato Almeno finché ovviamente il cartello rimane all'interno dell'area visibile inquadrata dal telefono Questo quindi è il funzionamento della modella tracking zoom di LG G2